Ripartire dalle relazioni e dal loro significato più profondo è il messaggio dell'Arcivescovo della Diocesi di Bari-Bitonto, Giuseppe Satriano, lasciato durante l'Omelia della prima celebrazione all'interno della Cattedrale di Bitonto. Sua eccellenza, arrivato a fine gennaio, ha preso il testimone di Monsignor Francesco Cacucci dopo 21 anni ed è già pronto a star vicino a tutta la comunità, specie in questo periodo pandemico così difficile. Con la prima domenica di Quaresima giungerà in tutte le parrocchie una mia lettera e anche delle istruzioni per l'uso, chiamiamole così, con cui tentare di riattivare non tanto la catechesi in sé come noi la intendiamo, ma delle relazioni di evangelizzazione che anche attraverso momenti catechetici, che lasciamo anche alla creatività dei singoli sacerdoti, possano essere ripresi o comunque possano essere approntati in uno stile nuovo, in uno stile leggero, ma anche che valorizzi la relazione. Credo che questa parola, la parola relazione, sia una parola chiave che dobbiamo cercare di riattivare in tutti i modi che possiamo. Ecco, con una vicinanza come ci invita il Papa, ricca di prossimità, che come Chiesa siamo chiamati a vivere. Il Vescovo poi ha rivolto un pensiero anche in vista del prossimo mercoledì delle ceneri. L'invito è di imparare a prendere la forma del pane, così come ricorda Sant'Agostino, per evidenziare un processo di conformazione a Cristo. Il pane ha sempre rappresentato un elemento di convivialità, un elemento di condivisione, e non dimentichiamo quanto il pane era caro durante il tempo di guerra. Ecco, allora, recuperare e ritrovare intorno al pane un percorso esistenzialmente e religiosamente significativo, credo che questo sia un obiettivo che la Quaresima ci consegna. E nella prima domenica di Quaresima, quest'anno, in via del tutto straordinario, noi trasportiamo la quarta domenica, cioè ciò che si faceva nella quarta domenica, e cioè la carità, la Quaresima di carità. Raccoglieremo fondi e quindi condivideremo quello che siamo, quello che possiamo, per questi fratelli che bussano alle porte dei Balcani e che stanno morendo, stanno vivendo grandi stenti a causa del freddo e a causa anche del respingimento. Ecco, metterci accanto a chi soffre, credo che sia questo il compito di ogni credente, riscoprire questa alterità sofferente e saper condividere se stessi con la storia e la vita degli altri. Monsignor Satriano, in ultimo, ha rivolto un pensiero ai tanti ammalati che stanno soffrendo. Stiamo vivendo questo momento difficile e delicato, che è quello della pandemia, per cui vorrei approfittare di questo momento per mandare un saluto intanto a tutti gli ammalati e anche gli operatori sanitari che si stanno dando da fare, alle famiglie che sono anche piegate, segregate talvolta da questa situazione. A quanti stanno facendo fatica, ecco, che a tutti giunga la carezza della nostra Chiesa, la mia vicinanza, la vicinanza dei pastori che stanno veramente lavorando con grande impegno e grande generosità.